Il punto focale del mio intervento era l'importanza del monitoraggio strutturale per una valutazione rapida del danno. Io il danno lo potrei quantificare se avessi tutto il tempo possibile, immaginabile, con ispezioni e analisi, eccetera. Il mio interesse era soprattutto nel trovare modi che possano rappresentare come un segnale di attenzione da parte delle autorità competenti che magari un certo ponte ha bisogno di un'analisi in profondità, in dettaglio del danno. E quindi sono interessato a metodologie che riescano quasi immediatamente a darmi un'indicazione delle condizioni della struttura. Tutte le strutture di una certa importanza dovrebbero avere un sistema di monitoraggio che possa garantire delle misurazioni in tempo reale e queste misurazioni possono essere poi analizzate. Il costo è veramente irrisorio rispetto a quello che può essere il costo di un nuovo ponte. Il costo di un sistema di monitoraggio oggi come oggi e più sta, nel futuro costerà sempre di meno. Perché i computer oggi costano pochissimo, i sensori tra qualche anno costeranno anche loro pochissimo. Quindi si fa un investimento sul ponte che poi può riportare, sono sicuro che riporti i grossi vantaggi al momento della manutenzione. Perché ora si può fare una manutenzione mirata per quel specifico ponte perché quello solo ha dimostrato dei fatti. Non fare una manutenzione a tappeto quando magari non ce n'è bisogno. E quindi il monitoraggio secondo me ha tutti i vantaggi, ha veramente tanto da guadagnare e poco da perdere. Per me strategico sono quelle strutture che la mancanza di funzionalità fortemente impatta sulla vita sociale delle comunità. Io riparlo appunto vivendo in America, vivendo a New York. Pensare di chiudere un ponte è impossibile, impossibile pensare che George Washington Bridge sia chiuso. Sarebbe un danno alla comunità, ma non solo di New York, ma di tutto il nord-est. Si aiuterebbe l'autostrada che collega Miami al Main. Sono danni incredibili, quindi non si può chiudere. Stanno facendo, per esempio adesso, stanno facendo un progetto di riabilitazione del George Washington Bridge che solo quello costa un miliardo di dollari. Solo per quel ponte, solo per i cavi del ponte eccetera. Quindi queste sono strutture strategiche dal mio punto di vista. Questi controlli vanno fatti come lei, come io vado dal dottore. Non è che vado dal dottore solo quando mi sento male. Quando sono giovane, forse vado dal dottore una volta ogni tre anni, quattro anni. Quando incomincio ad avere una certa età, allora bisogna andarci ogni anno a controllare. Il dottore fa prima una questione di monitoraggio abbastanza facile, controlla il polso, controlla il cuore. E poi dopo, se c'è qualcosa che non parla, facciamo l'analisi specialistica in quelle condizioni lì. E quindi è questo che io vorrei avere interpretato il monitoraggio, come un mezzo per migliorare i programmi di ispezione. Un ponte nuovo va magari ispezionato una volta ogni cinque anni. Un ponte di una certa età una volta ogni due anni. A meno che il sistema di monitoraggio non mi dia dei dati che dica, guarda, anche se il ponte è a cinque anni, c'è qualcosa di sbagliato nel ponte, quindi bisogna dare ispezionare. Ci sarà sempre bisogno dell'ingegnere. Ancora non vedo uno scenario dove l'ingegnere possa essere rimpiazzato. L'ingegnere sarà sempre la figura base di questa azione. Il fatto è che l'ingegnere può usare, ha dei vantaggi, ad agire dai dati che gli vengono forniti da questi sistemi. L'ingegnere gli può dire, guarda, non andare a vedere quel ponte, perché quel ponte sta bene. Vai a vedere quell'altro ponte che invece ha bisogno di cure. Perché ha bisogno di cure? Perché dai dati risulta che qualcosa è cambiato, che ho misurato il GPS, che la sponda si è spostata, eccetera. Quindi ci sono delle alterazioni che richiedono il tuo assessor.